Ciao a tutti, oggi voglio proporvi quattro novità di romanzi gialli e thriller scritti da quattro grandi maestri del genere. Don Weasel, Il confine, ecco l'attesissimo ultimo capitolo che completa la trilogia del potere del cane e il cartello. Petros Marcaris, Il tempo dell'ipocrisia, un'altra inchiesta ambientata in un'assolata isola greca. Michel Boussy, La follia di Mazzarino, tornano le intricatissime trame dell'autore francese e finalmente a 25 anni dal suo esordio torna anche un'inchiesta del commissario Montalbano, Il cuoco dell'alcio di Andrea Camilleri. Vi aspetto nel prossimo appuntamento che sarà ricco di avventura.